Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per la rassegna stampa di Fano TV Occhio ai giornali. Tutte le mattine sfogliamo insieme a voi le pagine dei quotidiani, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico che poi troverete in adicola. Facciamo un sorvolo sui titoli e sulle notizie principali. Anche questa mattina ugualmente faremo così ma non prima di aver visto Santo del Giorno al Manaco e quindi poi le previsioni del tempo. E guardiamole. Allora oggi è sabato primo aprile, Sant'Ugo di Grenoble, Vescovo, il sole è sorto alle 6.48 e tramonterà alle 19.35, primo giorno del mese. Quindi insomma vediamo quali sono le previsioni per questo inizio di aprile. Come si presentano? Ceno sereno, poco nuvoloso al mattino con un aumento delle nubi stratificate medio-alte nel corso del pomeriggio. Per oggi, pregitazioni assenti, temperature in lieve diminuzione nei massimi ma stazionari nei minimi. Mare poco mosso, segni particolari, nessuno, venti di brezza attesa. Quindi insomma questo è il giorno di oggi. Vediamo per la domenica invece, vediamo una intensificazione della nuvolosità, soprattutto sui rilievi appenninici, parzialmente nuvoloso per nubi stratificati e cumuliformi, ma soprattutto nelle zone interne. Precipitazioni, nelle ore centrali, rovesce temporali sparsi sulla fascia appenninica. Temperature stazionarie o in lieve diminuzioni nei massimi. Mare sempre mosso o molto mosso, eventi sud-occidentali, nessun fenomeno particolare. Vediamo come inizia la settimana, previsioni per lunedì 3. Anche qui, insomma, sulla nostra provincia la nuvolosità cala un po' di intensità, però insomma sul resto della regione precipitazioni sparse, anche nella prima parte della giornata. Piovaschi sparsi, però principalmente nel settore meridionale e lievi isolati e brevi rovesci. Però il fenomeno è in esaurimento nel pomeriggio, nella mattinata, quindi cielo parzialmente nuvoloso, però maggiori addensamenti sul settore centro-meridionale. Come abbiamo visto, appunto, insomma, il settore appenninico è sempre più penalizzato. Vediamo i giornali. Partiamo con il Corriere Adriatico, che apre con la fotonotizia al centro, fermato dalla polizia stradale sull'A14, un furgone con all'interno quattro occupanti che provenivano dall'est europeo, trovato di tutto, furgone con ogni sorta di possibile refurtiva, attrezzi da cantiere, gioielli, orologi, televisori, tablet, c'era veramente di tutto nel furgone. Fermato nelle prime ore del mattino dagli agenti della Polstrada. Disoccupazione, profondo nero, il lavoro per metà è irregolare, questo è il titolo di testa del giornale. Strage di multe, 900 in tre mesi, interpellanza per il semaforo, siamo a Fano, nel Mirino, l'incrocio di Viale Primo Maggio. Troppo traffico e pure la mancanza anche di segnalazioni, poi vedremo nello specifico questo articolo. Vi faccio vedere la pagina di Fano del Corriere Adriatico, che parla di questo semaforo, l'incrocio di via Primo Maggio all'ingresso con l'incrocio con il Lido, Fano zona nord, inflazione attribuita alla complessità del crocevia e alla pressione del traffico. Vedete ci sono più di un semaforo in sequenza, c'è un primo rosso, poi c'è un secondo rosso, e poi c'è un terzo laggiù in fondo, insomma, quindi è un po' complesso l'attraversamento di questo incrocio. Quasi 900 multe in tre mesi per il passaggio appunto con il rosso, interpellanza dei 5 Stelle. Strage di multe, questo è il titolo del Corriere Adriatico nell'articolo di Massimo Foghetti, tutti i particolari di questo aspetto. E poi vediamo anche un'altra pagina di Fano, che riguarda appunto un'area artigianale poco adatta a quelle scuole, stiamo parlando del campus nella zona dell'ex zuccherificio, e quindi la Giunta respinge la proposta dei privati per poterci fare appunto un polo scolastico in quella zona, in un'area artigianale poco adatta alle scuole. Operazione inoltre richiederebbe fondi pubblici, ma ora non disponibili appunto per questa evenienza. Ancora cambiamo città, andiamo a Urbino, andiamo a Urbino con le pagine del Corriere, cerchiamo di aprire la pagina di Urbino, eccolo qua, tariffa non le basta, si parla di prostituzione, ruba il telefono al cliente, prima ha chiesto 50 euro e poi la nigeriana ha rilanciato, questa era la sua tecnica, contrattava un prezzo, dopodiché rialzava la posta e questo cliente non ha aderito alla sua richiesta e così gli ha rubato il telefono. Ancora dalle pagine di Urbino per un funerale donati gli organi di Andrea, la città straziata dal dolore, domani a San Michele il funerale del sedicenne celebrato dal vescovo Turazzi, vedete in questa foto Andrea Dini dopo l'incidente di domenica sulla pista da Cross, lo vedete appunto qua in sella alla sua moto, purtroppo non ce l'ha fatta e domani a San Michele ci saranno i suoi funerali. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, però andiamo a Senigallia, Baby Squillo nel camper del sesso, nel minino c'è anche l'ex fidanzato, dopo l'arresto della manager si indaga su altri compici, sull'attività di prostituzione, ecco qui il camper dove si prostituiva la Baby Squillo, Maurizio Mandolini, direttore dei servizi sociali, dirigente dei servizi sociali, dice si tratta di un episodio isolato, qui non c'è un'emergenza minore, qui a Fano Mandolini lo ricordiamo perché è stato protempore direttore dell'ambito sociale 6, fin tanto che nel passaggio non c'è stata poi l'attribuzione vera, quindi adesso lui è ritornato a Senigallia. Dalla Val Cesano spaghettata e gare sportive nella giornata contro l'autismo, domani la tradizionale manifestazione che unisce salute, buona tavola e solidarietà. Siamo a Mondolfo e quindi se volete passare una domenica all'insegna del buon cibo e della solidarietà andate a Mondolfo, come vedete quindi spaghetti preparati a regola d'arte e saltati in nome della solidarietà per questo aspetto della salute che colpisce alcuni dei nostri ragazzi, l'autismo appunto. Poi sempre nella Val Cesano si parla di una strada che è versa in condizioni veramente disastrose, è stata avviata la raccolta firme per la sua sistemazione, rischi per residenti e pendolari, comitato di stacciola al Banco delle Firme si cerca di raccogliere più firme possibile per perorare questa causa, per cercare di rimettere a posto questa strada. Partiamo con le pagine di peso del resto del Carlino e vediamo cosa ci propone il Carlino, lui non è l'acolteratore, scarcerato, vittima e testimoni hanno cambiato idea sull'aggressione al campus ma c'è tensione. Poi fotonotizia al centro, via e Roma dal parco, sgombrate ancora le baracche di via dell'Acquedotto, in regola solo il cagnolino che vedete insomma qui un cagnolino tenuto in braccia da un vigile urbano e poi ecco qui Andrea ha donato tutto se stesso, si riferisce appunto al sedicenne morto durante la gara di motocross. Cambiamo la pagina, vi riporto sempre sul resto del Carlino, ampliamo la notizia, vi faccio vedere quello che è altre foto, altre didascalie di questo articolo sul resto del Carlino, demolizione delle baracche col brivido, la ruspa evita rom e cagnolina per un attimo, il primo era rientrato nella capanna senza avvertire e l'animale è stato salvato da un agente, vedete qui nella fotonotizia appunto la demolizione di queste baracche che ha comportato appunto l'utilizzo anche di una ruspa che vedete che vedete qui in questa foto. Momenti di panico perché entra nella casa, nella baracca questo rom per accertarsi che non ci sia più nessuno e porta via il cane con questo gesto, un vigile scrupoloso evita una brutta fine all'animale. Il campus, l'episodio avvenuto nel campus, vittima questo 19enne, però è stato scarcerato, testimonia e vittima intanto ritratteno, non è lui l'accoltellatore dalle prime ore ai successivi, poi non so. Il suo avvocato difensore dice abbiamo spiegato con tutti i dettagli al giudice che il mio cliente quella mattina si trovava a Urbino e non a Pesaro. Le pagine di Fano del resto del Carlino, l'abbiamo visto anche nell'altra testata, si parla del semaforo, a puntargli il dito contro sono i 5 stelle che vedete ritratti qui tutti e tre, i esponenti e i consiglieri comunali, sono oltre 800 le sanzioni elevate in tre mesi, appunto il traffico è complicato che non permette l'arresto definitivo dell'automobile, questo è il problema secondo loro sull'incrocio appunto sulla nazionale del Lido con via Girolamo da Fano e qui insomma probabilmente bisogna ampliare l'informativa sui cittadini, questo è il pensiero dei 5 stelle. L'ultima pagina che vi propongo appunto si parla della zona dell'ex zuccherificio che era stata presa in considerazione per quanto riguarda eventualmente la creazione di un campus scolastico ma il sindaco Seri e l'assessore Paolini bocciano questa proposta di trasferire nell'area gli edifici scolastici, i motivi non vogliamo rischiare di svuotare la zona del centro storico, questa è la motivazione, vedete, Seri, contrario, edificare il campus scolastico nell'ex area dello zuccherificio. Bene, questa era l'ultima notizia che vi proponevo per oggi, occhio ai giornali, torna lunedì mattina alle 7.30 puntualmente e quindi insomma questo era l'ultimo foglio che vi facevo vedere, grazie per essere stati in nostra compagnia e naturalmente buon fine settimana a tutti voi, grazie. Grazie a tutti.